Salve, sono Valentino Affinita e rappresento la mia scuola, l'istituto per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera di Trastevere, il Gioberti, che ha deciso di partecipare al progetto proposto dal MIUR, la scuola a Expo 2015. Tra le varie tematiche abbiamo deciso di affrontare quella della ricerca e la valorizzazione delle tradizioni del nostro territorio. Per fare questo abbiamo ideato un menù della tradizione romana, che parte dall'antipasto e arriva fino al dolce. Faccio le olive di Gaeta. Io ora sto pulendo i peperoni che abbiamo prima infornato e adesso li abbiamo spellati e li stiamo pulendo per fare il ripieno del pollo. Stiamo preparando la cipolla per poter fare il pollo con i peperoni, la ricetta classica. Il menù è questo. Fiori di zucca fritti alla romana e la loro versione moderna, destrutturata. Prima di tutto vanno puliti i fiori di zucca, togliendo il pistillo e il gambo. Poi vanno inseriti all'interno di bastoncini mozzarella e una licefale. Sto facendo la pastella e la utilizziamo per friggere i cipolli di zucca. Si deve dorare la pastella. Allora qui facciamo una ripetizione del tipico piatto romano, il fiore di zucca. e lo rivisitiamo un pochino. Puntarelle e poi useremo dei pomodorini per decorazione e il fiore di zucca. I fiori di zucca rivisitati sono pronti. I rigatoni alla carbonara e il risotto alla carbonara con uovo fritto croccante. Stiamo facendo una carbonara? Questa è il guanciale per il riso, cioè la ricetta modificata della carbonara. Stiamo tostando il riso con la cipolla caramellata e il guanciale. Adesso abbiamo aggiunto il brodo con una cipolla picchettata per far ammorbidire il riso. Siamo mantecando il riso con il grasso del guanciale al posto dell'olio e il guanciale stesso, parmigiano e pecorino nella stessa quantità. Adesso stiamo mettendo un porlo cremoso che non è altro che un uovo alla cotta. Abbiamo fritto il porlo dell'uovo per tutta la carbonara. Pollo e peperoni e spere di pollo con peperoni e puntarelle di broccolo romano. Abbiamo l'olio, cipolla e poi abbiamo fatto rosolare il pollo. Questo è del vino per sfumare il pollo. Abbiamo messo all'interno i peperoni e abbiamo messo spezie, prezzemolo, pepe, sale, tutti gli aromi nanutari. E il pollo con i peperoni è pronto. Sto rosolando i peperoni. E sono in ripieno per la sfera di pollo. E sono in ripieno per la sfera di pollo. E sono in ripieno per i peperoni. E sono in ripieno per i peperoni. E sono in ripieno per la sfera di pollo. Questa è una sfera di pollo ripiena di peperoni, olive e cafferi con l'aggiunta dell'esposizione con una pellutata di broccoli decorata con broccoli e peperoni. Crostata di ricotta e visciole e semifreddo alla ricotta con visciole e croccanti di pasta brolla. Le strisce per la crostata alla ricotta. La crostata è pronta per essere servita. Io sto facendo riscaldare la crema pasticcera. Ho mischiato la crema pasticcera con panna e crema di ricotta. C'è sa chi c'ha i buchi e can fa bene, c'ha pure chi le prega la salute. E allora bevi zitto e non discute, che il vino ti fa bene per i cene. Questa è la rivisitazione della crostata di esciole e ricotta. Questo è il cioccolato temperato per la decorazione e il semifreddo appunto. E questo è il risultato. E questo è il risultato. Canzone belle appassionate Che Roma mia mi ricordate Cantate solo per dispetto Ma con smaniedra in tarpetto Io non ve canto a voce piena Ma tutta l'anima è serena E qua nel cielo si scolora E me nessuna si innamora Io non ve canto a voce piena di ricotta Io non ve canto a voce piena